Era un bel periodo perché era un momento di passaggio. Croce era un anario di moda, veniva di moda lo studio dei sistemi dei segni, il sistema della moda. Infatti si scherzava, lo seminario di Rencioni ovviamente, si faceva un seminario sui titoli. Quindi scegliete dei giornali, scegliete delle settimane, eccetera. E poi c'era la bibliografia dove visitare, no? E allora c'era, dice, ovviamente i classicisti prendevano un po' un giro per questa cosa, perché il Corriere della Sera, la Nazione, l'età, e poi c'erano anche le riviste, Amica, e questi colleghi appunto del teatro. Anch'io sto facendo una piccola bibliografia dove citavano queste righe size, shift, few, eccetera, 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 gioia! Era una cosa completamente nuova che non... Era un bel momento, ripeto. Era un bel momento, ripeto. Grazie.